bene eccoci qua mettiamoci mettiamoci in ordine dai oggi sono le 10 e un quarto questo 29 febbraio 2024 bene questo video inizio col dirti una cosa molto importante questa cosa ce la dice un certo alberto ferrarini ferrarini numerologo motivatore di calciatori medicina dell'anima conoscenza una grande conoscenza difatti finché le grandi case farmaceutiche sono quelle che formano i medici il mondo andrà avanti nella sofferenza si potrebbero guarire quelle cosiddette malattie si potrebbe guarirle all 80 per cento comprendere questo male dell'essere la malattia questo squilibrio fra mente e anima questa difficoltà a trovare una coerenza un modus operandi che va in armonia invece noi abbiamo sempre qualcosa che non va come vorremmo c'è sempre un attrito ma in particolare una frase fondamentale che ci dice alberto è che è una domanda la domanda è vuoi avere ragione o vuoi stare bene da qualche parte avere ragione puoi avere ragione quella tua parte animale quella che dice ma lui mi ha fatto quello è giusto che sono incazzato con lui quella parte lì ha ragione ma quella ragione animale non ti fa stare bene allora la soluzione è quella di fare in modo di stare bene ok tu puoi avere mille ragioni puoi avere tutte le ragioni nel mondo ma se non stai bene avere ragione non ti serve a niente dunque smettiamola di voler avere ragione sì tu hai ragione io ho fatto quello e tu hai fatto quell'altro hai ragione tu però alla fine chi sta male non sono io ma è lui o lei ok dunque quella persona che vuole avere ragione finirà per stare male ok dunque molto semplice tra scegliere tra aver ragione e volere stare bene la scelta va sullo stare bene e dunque per stare bene cosa bisogna fare per stare bene bisogna prendere consapevolezza che da una parte sì ho ragione quello lì mi ha fatto quello e quell'altro è una brutta persona e io sono una povera vittima ma cosa succede nell'aver ragione finisci per sentire che il problema sta nell'altro è lui è lui il cattivo mentre in realtà il problema è un altro essendo tu responsabile al cento per cento di quello che vivi ebbene la ragione non ti serve soprattutto una ragione che dà la responsabilità all'altro diventi una vittima diventi l'effetto dell'altro mentre invece se tu sei consapevole che da una parte è vero l'altro ha sgarrato è vero è lui che è intorto ma alla fin dei conti se tu reagisci ti fai ristimolare ti arrabbi te la prendi alla fine chi avrà problema il fegato o la cistifeglia sarai tu dunque prova prova reagisci in un altro modo nelle stesse situazioni che ti si presentano nella vita perché quella persona che ti provocherà quella rabbia non è mai la causa originaria si torna indietro torni indietro e vai all'origine e ti renderai conto che hai vissuto già un evento molto prima e quello evento è stato registrato non lo ricordi e poi basta che le condizioni si ripetono lo stato di quell'istante è simile a quello che avevi già vissuto nel passato la ristimolazione è causata da una situazione similare cambiano cambiano lo scenario cambiano gli spettatori cambiano gli attori eppure tu vieni ristimolato cadi di nuovo in quel vissuto già conosciuto perché perché semplicemente l'hai registrato dentro le tue cellule allora è molto importante prendere consapevolezza vuol dire essere consapevoli mentre viviamo prendere quel momento per osservare quello che sta accadendo attorno a noi e essere dunque centrati questo è un lavoro su di sé fondamentale che spiega molto bene salvatore brezzi lui è bravissimo per queste cose ha fatto anche un libro una decina di anni fa che si chiama risveglio l'ho già detto ma siccome le persone dormono io lo ripeto il risveglio di salvatore brezzi lavorare nel qui e ora sulla presenza e semplicemente stando consapevoli di quello che ci succede avendone consapevolezza piano piano noi non ricadiamo più nelle stesse reazioni diventiamo dunque gli attori e protagonisti della nostra vita come dice un caro amico ci vuole ripetizione ci vuole allenamento anche oggi 28 chilometri a casa in bicicletta con 11 ripetute visto che siamo 29 che fa 9 più 2 fa 2 11 fa due dunque vedi siamo centrati perché abbiamo seguito l'energia del momento del giorno dunque questo allenamento che ho fatto è stato molto intenso ci sono state delle ripetute di tre minuti due minuti di ritorno alla tranquillità pedalando in un modo leggero e poi si ripartiva tre minuti 33 di giustizia facciamo il calcolo un attimo oggi 29 fa 2 più febbraio fa 4 più l'anno 2024 che foto 4 più 8 fa 12 3 3 di karma in questa giornata 2 o 29 come numero che caratterizza la giornata dunque dunque ho fatto le mie ripetute seguendo questa numerologia tre minuti del karma di intenso sforzo che il karma è poi il tuo destino che subentra dopo i 35 anni ho imparato d'alberto 35 40 più o meno e due minuti tranquilli che è l'energia della giornata in questo video in questo momento realizza di avere passato l'esame della giornata centrato più di prima ok allora haug ti saluto con queste parole a te di trovare la centratura la presenza nel qui e ora secondo le dritte che ci dà il carissimo salvatore brizzi e di provare una volta ad ascoltare gli audio su telegram di alberto ferrarini oppure i suoi video su youtube le sue dirette e se davvero sei motivato e vuoi fare un passo avanti iscriviti al gruppo di alberto che è qui zero alibi si vola su facebook ok allora metti like al video condivido con gli amici e lascia un commento e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto se non l'hai ancora fatto cosa aspetti prendi quella decisione ok allora Grazie.